Danilo, siamo tornati ancora una volta in Cina per la terza puntata consecutiva e tu ancora non mai portato in Cina, però io mi segno tu, non poi la paghi. Abbiamo parlato per fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti, anche perché non è detto, questo è un podcast, non è detto che uno se le sente tutte le fila. Sì, esatto. Per fare un breve riassunto, siamo partiti da una storia raccontata da un giornalista avventuriero ed esploratore Aleko Lilius, personaggio un po' controverso, quando mai noi parliamo di personaggi controversi, che nei suoi viaggi nel sud della Cina ha frequentato le peggiori bettole di Magawa e è stato in contatto con dei pirati cinesi, appunto. E non dei pirati qualsiasi, ma dei pirati che l'hanno messo in contatto con la regina dei pirati della Cina dell'epoca, ovvero Lai Choy San, personaggio che abbiamo visto forse realmente esistito e ampliamente romanzato, insomma dal nostro Aleko Lilius, però insomma personaggio interessante, storie molto interessanti, anche storie che si collegano molto con la geopolitica locale dell'epoca e nello scorso episodio abbiamo appunto descritto un po' alcune situazioni, alcune situazioni belliche, alcune imprese e battaglie a cui Aleko ha assistito e alcune situazioni molto truculente che ha visto la Royal Navy come da tradizione opporsi ai pirati e fare un casino, certe volte anche peggiore dei pirati stessi, però nello scorso episodio abbiamo lasciato Aleko alla ricerca di nuovi pirati in cui unirsi, perché comunque sembrava che fosse stato rapito da queste avventure assieme alla regina dei pirati, e Danilo invece oggi andremo ad approfondire appunto le ultime avventure tra i pirati cinesi di Aleko, però andremo anche a introdurre un elemento interessante in questo episodio rispetto a questa vicenda, che dici? Sì, soprattutto molti elementi, anche perché vedremo il nostro Aleko dove va a ficcarsi pur di cercare pirati, voi non avete idea di quello che passa, parleremo un po' se riusciamo anche di temi un po' più politici come piacciono a noi, però io ti lancio una domanda per cui mi risponderai dopo la sigla, ma visto che io dicevo che i pirati cinesi, ci dice Lilius, forse un po' ispirato da Stevenson, si arricchivano anche trovando antiche monete spagnole, sepolte e così via, c'erano altre attività che i pirati facevano per guadagnare soldi, magari, non so, vendevano braccialetti sulla spiaggia amichevolmente, ci dirai tu Flavio se c'erano altri business che i pirati seguivano, intanto mandiamo la sigla! Eccoci qua! Eh Danilo, mi dispiace contraddittimi, ma i pirati non vendono braccialetti sulla spiaggia, le attività lucrose dei pirati erano molteplici ovviamente, però la fonte di guadagno principale, come abbiamo detto anche negli scorsi episodi, erano i riscatti. I pirati facevano prigionieri molti individui, uomini, donne, bambini, e questo lo facevano nei villaggi, lo facevano a bordo delle giunchie, lo facevano sui piroscafi, ovviamente sui vapori, lo facevano sulle strade, insomma, chiappavano gente e chiedevano riscatti. Il prezzo della libertà era proporzionale naturalmente alla ricchezza della vittima, poteva essere di 50 dollari come di 50.000. Il nostro autore, Aleco Lilius, dice i pirati hanno agenti in ogni città, in ogni villaggio, e questi danno informazioni sulle vittime designate e sulle loro famiglie, e questa è l'intelligence per capire quanto chiedere di riscatto. Queste attività lucrative sono discritte con spirito di cronaca, però anche con una prosa avvincente e magnetica, come abbiamo visto, Lilius è proprio una bella penna. Prendiamo per esempio questo episodio. Qualche anno fa una banda di pirati assaliva nel porto di Hong Kong un vapore che andava da Victoria a Yohamati. Il timoniere sentì la fredda bocca di una pistola contro la tempia e dovette girare la nave in direzione di Macao. Intanto il resto della banda teneva a bada i passeggeri, prendeva loro denari e gioielli e li faceva scendere a Hong Kong, mentre il vapore prosegueva verso West River. Insomma, sì, una bella descrizione pittoresca. La fredda bocca della pistola. È vero. E a proposito di Fratelli della Costa, pirati appunto, e di esoterismo, anche una delle cose che ti affascinano molto, io so, e sono anche tutte cose che rimandano a pirati che noi conosciamo bene, ovvero Lavasse, ovvero Walter Raleigh. Occorre quindi dire che a questo punto Aleko descrive le società segrete cinesi. Società appunto con obbedenze, con riti di iniziazione, società di cui i pirati facevano parte. E il nostro autore entra talmente in legami stretti e confidenziali con i pirati, questa volta non parliamo dei pirati di Loï Chai San, la signora dei pirati di Bias Bay, ma lui entra talmente in relazione con questi pirati da entrare a far parte di una delle loro società segrete. Esatto, esatto. Questo è molto interessante. Parliamo quindi di un gruppo di pirati dove, mentre all'inizio del racconto di Lilius, noi vedevamo proprio i pirati comportarsi esattamente come lo possiamo, può emergere da qualsiasi pellicola anche, no? Quindi vieni reclutato, sali a bordo, c'è il capitano lì che ti squadra un po' male mentre sei sul ponte della nave e così. C'è un aspetto dell'essere pirata che in molte storie che abbiamo raccontato si collega a far parte di qualcosa di un po' più oscuro, di un po' più occulto. Cioè essere pirati voleva dire proprio far parte di gruppi non soltanto oscuri perché operavano nell'illegalità, ma perché condividevano delle visioni vere e proprie da obbedienza, da fratellanza segreta. L'Eva Sir l'abbiamo citato adesso perché i suoi stessi codici che rimandano agli indizi per trovare il suo famoso tesoro di cui abbiamo ampiamente parlato sono codici in uso all'esoterismo, alla massoneria e Walter Raleigh, personaggione che come sapete io amo alla follia, pirata, corsaro dell'epoca elisabettiana che aveva appunto fondato la scuola della notte nella quale si parlava filosofia, magia, un colonialismo esoterico e poi come vi ricordate nel caso di Walter Raleigh c'è anche una vicenda quasi paranormale della colonia da lui fondata e poi scomparsa e di questo abbiamo parlato. Quindi sembra che i pirati e le fratellanze segrete non siano così distanti fra di loro e l'aderenza a una fratellanza segreta che il nostro Lilius racconta omillanta a questo punto nasce dal rapporto con un altro pirata quindi non siamo più questo lo diciamo nella ciurma di Lai Choi San perché non tutto il libro è ambientato nella ciurma di Lai Choi San lui conosce veramente molte persone e fa veramente tante cose per riuscire a salire sulle ciurme di questi pirati. Lui conosce un predone di nome Wong To Ping Wong To Ping quando scopre di questa società segreta l'autore chiede di farne parte. Ora perché questo Wong To Ping si fida così tanto dell'autore? Diciamo che una prima cosa è che sicuramente lo ha preso in simpatia sicuramente dopo averlo preso a bordo si è anche servito dell'aiuto di Aleco Lilius affidandogli anche delle valigette contenenti denaro da consegnare a un banchiere di fiducia sulla terraferma. Ora anche per questo noi diciamo Lilius prendetelo con le pinze perché ripeto sembra che in queste pagine ha vissuto le avventure che uno nemmeno in una vita qui addirittura lui deve riciclare denaro da parte di un pirata che l'ha appena conosciuto gli dice tu sei bravo tipo De Niro tu sei bravo tieni questa valigetta con i soldi. Ora Aleco però gli dice se tu ti fidi così tanto di me rendimi membro della società segreta di cui fai parte. La cosa però molto bella è che ci rimanda all'idea romanzata romantica che noi a quanto pare non solo noi abbiamo dei pirati è che questa società si chiama società dei giusti eroi non si chiama società dei malfattori di mare andiamo lì spacchiamo le navi società dei giusti eroi e questo ci rimanda un po' al principe libero di Bellami in un certo senso a quell'eroismo lì. L'autore in questo periodo è accompagnato da un aiutante amico che sia vero che sia il classico il classico sidekick non lo sappiamo di nome Wang e viene a un certo punto viene accettato per entrambi di far parte della società dei giusti eroi anche io e Flavio fossimo andati lì ci avrebbero magari coinvolti dice voi avete parlato per cento e più puntate di pirati ve lo meritate a un certo punto ce lo meriteremo però non so Flavio se io avrei proprio accettato fino in fondo più che altro perché è un po' schizzinoso rispetto al rito di iniziazione per entrare nella società dei giusti eroi innanzitutto c'è in una stanza dove il primo profumo che senti è l'incenso quindi fin qua dici ah va bene è una cosa meditativa mi piace poi iniziano le daghe posate vedi anche puntate addosso e liquidi poltiglie di dubbio gusto e molto fetenti suoni di gong che martellano in sottofondo piume di animali sgozzati sangue degli stessi piume sporche che ti vengono messe in bocca e ficcate in gola e un rito dove in mezzo a tutto sto schifo crescente di fronte a ogni domanda che ti viene posta in cinese tu devi rispondere a ho qualcosa del genere ovvero bene benissimo accetto a ogni domanda ovviamente stai rispondendo al fatto che rispetterai gli ideali e i dettami dei giusti eroi un dettame però comprende anche decapitare l'ennesimo gallo di turno tagliarlo e strappargli il cuore quindi diciamo serve proprio fare questa cosa serve serve il cuore del caldo dell'animale viene dato al pirata e fratello appunto Wong Topping cosa fa lui afferra il cuore e direte voi cosa fa su Gella dice su questo cuore io giuro no lo mangia crudo poi mette in penna una bocca mette in sì mette in bocca una penna che viene intrisa una penna una piuma intendo che viene intrisa di sangue la dà agli iniziati io avrei detto Flavio che dobbiamo mangiare no va gettata in aria ok anche a gettare in aria gettiamo in aria le piume vengono poi bruciate e a questo punto l'autore dice io e il mio amico weng diventiamo parte della società dei giusti eroi in altre parole dice l'autore siamo diventati dei perfetti banditi questo era Wong Topping il pirata massone diciamo che ha anche un anello che poi anche lì viene fotografato quindi c'è forse sarà esistita non sarà esistita tu come la vedi è esistita non è esistita ti piace questo Wong Topping dunque la questione delle società segrete cinesi in realtà è una cosa molto interessante anche il nome la società dei giusti eroi in realtà tutto questo che hai descritto è molto plausibile te stupirà la cosa tutto questo che hai descritto è molto plausibile sia il nome sia il fatto che esistesse una società segreta sia che delle famiglie dei pirati ne facessero parte se ti ricordi nello scorso episodio ho accennato un po' il discorso del Kung Fu di alcune cose legate dal Kung Fu del sud della Cina e appunto le battaglie navali ecco chi ci ascolta e pratica arti marziali cinesi conosce sicuramente il meccanismo dei clan dei clan familiari sai il classico stereotipo Kung Fu della mia famiglia è più forte del Kung Fu sai quella cosa quella cosa lì è basata sul fatto che durante ora la faccio breve perché questa non è storia della Cina podcast durante insomma alcune questioni politiche insomma abbastanza importanti molte famiglie si sono trovate distrutte in giro per il canton e si sono riunite creando nuove famiglie creando dei dei cognomi che in realtà generalmente andavano a indicare i luoghi di provenienza di questi esuli e queste queste famiglie hanno creato appunto questi clan familiari che molto spesso si costruivano intorno a una casa insomma che è una casa che è un po' una magione ed erano appunto legate alle arti marziali legate ad alcune cose locali eccetera e chi visita appunto Hong Kong chi visita anche ma in realtà anche la Malesi insomma ha anche vari posti in giro per per l'Asia l'Asia meridionale ecco sicuramente può anche vedere visitare perché ormai sono tutte quasi case musei insomma cose del genere però effettivamente molto spesso nel canton Hong Kong Macao eccetera queste famiglie si riunivano in società segrete e questa era una cosa molto comune ed era come una sorta di società parallela alla società effettiva e se ti ricordi non mi ricordo se nello scorso episodio o in quello prima ancora ho fatto un po' dei paragoni tra la piratessa Loicai San e la mafia che effettivamente queste società segrete sono quelle che sono evolute oggi in quelle che chiamiamo triadi ok quindi quindi questo discorso della fratellanza segreta in cui Aleko è entrato non solo è molto plausibile è legato è legato alla questione geografica in cui si trova però è anche uno degli elementi che dà un po' di spessore storico a quello che racconta e ci fa capire che effettivamente lui sa di quello di cui sta parlando magari non ne ha affatto esperienza in prima persona però qualcuno gliel'ha raccontato però se lui sa così bene dei riti di passaggio ora sto dito di passaggio sinceramente non sappiamo se è vero o no quindi magari se l'ha inventato lui però conosce dei meccanismi che non può conoscere a meno che non non le ha visti o in prima persona o qualcuno gliel'ha raccontati quindi queste cose sono molto interessanti sia per darci la dimensione insomma delle sue parole sì sì ma sia anche perché sono proprio cose interessanti qua si va proprio quindi oltre la pirateria è uno spaccato della Cina e di quello che poteva davvero accadere nel loro consorzio umano quindi diciamo questo è interessante sì 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 tra l'altro partecipando alla società dei giusti eroi ora che ci abbia partecipato in prima persona però lui dice di sì quindi partiamo un po' da questo presupposto Lilius e il suo sidekick Wang ricevono anche appunto degli anelli come hai anticipato che indicano appunto la loro appartenenza alla società segreta e anche questo in realtà è abbastanza plausibile la gratitudine del nostro autore verso questo pirata che li ha introdotti è proprio massima al punto che lui dice Wong To Ping voi siete certo un assassino un rapinatore un corruttore un fumatore doppio un ricattatore e potete essere un candidato all'inferno ma io ritengo che voi siate un mascalzone riconoscente e un gentiluomo insomma sembra l'assassino rapinatore sembra la gag la gag dei Simpson il mio Homer non è come quella roba lì bene esatto esatto quell'anello dice l'autore una delle cose che mi sono più care chissà che fine ha fatto oggi quell'anello mi chiedo io e chissà che fine ha fatto poi la società dei giusti eroi magari è diventata anatria esatto come dicevi però sempre in tema di questa ambivalenza tra pirati eroici e criminali incalliti e puramente malvagi vorrei parlare di un altro Wong non Topin stavolta ma Kyu Wong Kyu perché come dicevo Danilo il nostro autore non ha incontrato solo la regina dei pirati tra i tanti pirati con cui ha parlato ma ha incontrato e spesso ha cercato di avere dei rapporti con altri i predoni si no ma infatti io se posso scusa interromperti perché prima dicevo non avete da un po' di puntate non avete idea di quello che lui fa per entrare a bordo delle navi pirata allora la maggior parte del libro descrive luoghi società appunto come stavamo dicendo con Flavio di quelle zone con il pirata che va in cerca eh sì scusate con il protagonista che va in cerca di pirati più che trovarli e che per farlo fa di tutto quindi parte dell'attesa del pirata è essa stessa pirata si può riassumere così questo libro lui si presenta a volte come giornalista a volte fa finta di non essere un giornalista a volte si finge un avventuriero mercenario russo e addirittura dice a un certo punto io tra l'altro poi visto che Flavio in una delle scorse puntate citava le vere esperienze in carcere di Aleco Lilius io qua dicevo ma allora anche questa può essere vera perché a un certo punto per incontrare i pirati si fa arrestare e in prigione voi potete immaginare si fa arrestare proprio per questo si fa arrestare oh ero innocente ovviamente amico lettore sì sì e quella storia di Frode beh comunque lui in prigione potete immaginare le esperienze terrificanti che vive quindi ecco magari è proprio questo lui magari qua ha raccontato un'esperienza di prigione che ha vissuto lui dove quando come uomo d'affari lo mettevano dentro per frode truffette così e magari l'ha spostata dicendo no ero andato lì a cercare pirati magari può anche magari anche lì l'esperienza in prigione magari la descrive vera perché descrive cose molto precise tra l'altro descrive impiccagioni a cui assiste descrive una sua malattia che subisce a causa del del vitto rancido dell'acqua descrive il fatto che viene trasferito in ospedale in un letto dove non ha le lenzuola cambiate mai le cimici che ti mordono la notte e lui in ospedale inizia a battersi per una maggiore qualità di servizi pulizie e assistenza quindi è una persona che dice lui per trovare i pirati si è fatto addirittura arrestare ha rischiato la vita dopo aver pubblicato i pirati pare abbiano cercato di ucciderlo in ogni modo addirittura una volta investendo un poveraccio sbagliato al posto suo che fortunatamente non è morto però stavano provando a investire lui invece hanno preso un altro addirittura nel romanzo ci mette anche l'amore lui e vedi infatti lo chiamo romanzo io nel saggio nel testo nella cronaca si innamora scappa con una fanciulla poi c'è questa figura del sidekick del aiutante domestico amico a cui addirittura è dedicato il libro Wang che fa pure una finaccia sembra davvero un personaggio un po' da romanzo appunto che in nome del dover aiutare questo europeo a cui lui guarda come fosse il suo capo il suo miglior amico sembra un po' il buon selvaggio in questo senso sembra un po' una visione retrograda così se vogliamo spiegarla come un'invenzione romanzesca Wang alla fine si unisce a questo europeo poi all'eco abbiamo detto che non sappiamo bene da dove venga nemmeno lui però da questo tizio venuto lì a rompere le palle ai pirati Wang muore pure per seguire sto tizio quindi fa una finaccia questo Wang era meglio se non seguiva all'eco ora come diceva Flavia un po' Indiana Jones un po' anche ten ten davvero ripetiamo l'avete già sentito la verità storica è diversa da quella magari delle pagine del nostro aleco però la storia la storia anche con la S minuscola che ci viene raccontata è uno spaccato molto potente ti tiene di sicuro incollato i pirati che lui incontra si sono diversi e scusa se ti ho interrotto tu ci stavi parlando di questo Wang Q che lui a un certo punto incontra si si quest'uomo sicuramente era un pirata meno celebre della regina dei pirati cinese del novecento di cui abbiamo parlato molto però questo Wang era comunque anche lui stesso un pirata e un incaldito fumatore doppio come anche all'eco come anche alle amacitare la sua residenza è uno yamen che è una tradizionale residenza e ufficio un po' tipica dei burocrati imperiali cinesi quindi una cosa un po' demodè però che trasuda importanza in qualche modo descritta con due piccoli cani di pietra guardia l'ercancello anche se probabilmente si tratta dei classici leoni guardiani che stanno all'ingresso dei luoghi importanti cinesi e con una grandissima scrofa nera che si aggira per il cortile da alcuni viene descritto come un eroe un benefattore un protettore della povera gente da altri come un barbaro brutale e quindi anche qui abbiamo la classica ambivalenza del pirata viene descritto come un uomo di mezza statura antipatico diffidente scrutatore quindi immaginate stenergumeno che te guarda male e tu cerchi anche di capire quello che dice che parla in cantonese quindi anche anche i cinesi stessi non capiscono se parlano in cantonese un individuo che incude un certo timore anche solo a guardarlo un uomo capace di essere inflessibile sostenuto e ostile però allo stesso tempo è ospitale verso l'autore quando inizia a insomma entrare un po' in confidenza con lui però Wong Kyu oltre che come eroe è descritto appunto anche come un uomo terribile e infatti il nostro Aleko a casa di un piccolo incidente diplomatico è stato costretto a scappare a gambe elevate dalla residenza praticamente sembra che lui avesse offeso l'etichetta rispetto all'ospitalità e al cibo che gli era stato per malone mangiava i cuori i cuori dei polli strappati però forse era stato schizzinoso chissà insomma Wong Kyu abbiamo detto come molti pirati era un personaggio complesso ambivalente Aleko lo descrive così insomma quell'uomo sguazza nel sangue ama torturare i prigionieri però il nostro il nostro Lilius riflette che questo risatto non è proprio giusto perché Wong Kyu come dice come dice Lilius era era stato buono con me sebbene uccidesse e tenesse prigioniere varie persone insomma era un bravo ragazzo sempre lavorato salutava sempre questo personaggio così duplice ci offre diverse letture terrificante però anche viscido e sordido spaventoso e brutale però può anche essere un benefattore per la povera gente un ritratto che ancora una volta ci fa pensare un po' a un capo mafia a un padrino forse la faccia asiatica del grande gangster che negli stessi anni si muoveva in America cioè al capone al capone del cantono ma anche senza andare a infognarci in un altro filone insomma passiamo dai pirati ai gangster e rimanendo nel nostro ambito in cui siamo più comodi effettivamente Wong Kyu ci ricorda anche molti altri pirati che abbiamo descritto pirati che però se li mettevamo al microscopio si mostravano molto eterogeneri eroi da una parte brutali assassini dall'altra molte volte nel corso del podcast ci siamo posti questa domanda dai Caraibi al Mediterraneo degli Ottomani e adesso anche nel Mar Cinese ma sti pirati ma chi erano? no mi piace questo discorso che hai fatto perché infatti l'ultima riflessione che possiamo dedicare al libro che ci ha accompagnato per tre puntate in questo grande periodo tematico sull'Oriente volevo proprio fosse incentrata sui collegamenti con il resto della pirateria da noi trattata soprattutto come abbiamo anticipato dal punto di vista politico voi sapete che quando raccontiamo l'epopea dei pirati nei vari sette mari siamo sempre schietti nel descrivere razzie rapimenti uccisioni conquiste queste cose non le neghiamo certo e sarebbe stupido fare il contrario però noi da sempre sosteniamo comunque sottolineiamo un idealismo anche romantico se vogliamo nella figura dei pirata e poi ovviamente a volte la prendiamo a ridere su alcuni eventi però cerchiamo di esaltare la figura di persone che hanno creato comunque comunità auto-organizzate a dispetto in barba in opposizione a un sistema coercitivo precostituito cioè sono comunque i pirati comunque li si voglia vedere e qualsiasi cosa abbiano fatto persone che escono da un recinto ora si tratta di comunità fondate su rapine violenza sì però questa abbiamo parlato anche ti ricordi Flavio forse era la prima proprio taverna sulla democrazia e parlavamo della forza della plebe della plebe in armi e ci raccontavamo citando anche Greber la forza che può avere un popolo che decide di essere realmente democratico e anche tutti gli aspetti che possono arrivare alla violenza parlando dei pirati cinesi Lilius descrive parlandoci della Cina una società colonizzata dove i cittadini sono narcotizzati dall'oppio ipnotizzati dalla lotteria con cui giocano compulsivamente quindi una società di sostanze tossiche droghe gioco d'azzardo lavoratori che pregano di avere il giusto riso nel piatto a fine mese tutto diverso dalla società in cui viviamo ora troppo distante guarda non riesco proprio a capirli però capite bene sarebbe un bel argomento di cui parlare esatto capite bene che in una società così un gruppo di uomini e donne che decide di prendere in mano la propria sorte di ribellarsi di creare il proprio modo di vivere e far fortuna questo gruppo dicevo diventa una risposta a una società che comunque è narcotizzante e controllante poi noi quando parlavamo dei caraibi abbiamo sempre parlato anche questo ce ne rendiamo merito dei vari intrighi politici no cioè non era i criminali contro la legge come ci raccontano a volte i film ma a volte semmai erano i governatori che i quali avrebbero dovuto ripulire i caraibi dai pendagli da forca erano i primi che spesso si riempivano le tasche e quindi dipendeva molto la pena ma tu quanto puoi dare al boi a me e così via e l'Ilius ci dice una cosa simile sulla Cina dell'epoca il rapporto fra potere e pirateria è quello che Flavio diceva all'inizio parlando di Lai Choi San nelle prime puntate lui dice io avevo l'impressione che essi fossero semplicemente lo strumento cioè loro i pirati di qualcuno più in alto quando parla di Lai Choi San il giornalista dice che in merito all'attività della piratessa ovvero lui dice le autorità avevano concesso al padre di lei che era pirata una specie di rifugio a Macau col segreto accordo vi ricordate che Flavio nominava i guardi a coste che egli dovesse proteggere la grande consorteria dei pescatori della colonia e far servizio di polizia in alto mare cioè alla fine c'era un accordo fra i ok tu puoi muoverti così però l'importante è che mi tieni ordine in questo modo le tasche ce le riempiamo tutti quindi viene descritto un ambiente di corruzione l'autore parla di un capitano un militare che dopo alterne fortune era diventato una guardia antipirata a bordo delle navi a vapore che aveva diciamo fatto questo cambio di vita e lui dice dobbiamo combattere contro i pirati se ci assalgono ma poi spiega che è raro che questo accada perché dice tanto la compagnia ai pirati gli paga i tributi l'autore dice ma come i pirati ricevono delle somme per tenersi lontani dal bastimento e non rapinarlo cioè vengono pagati per non essere ripagati dalle razzie sì il capitano racconta quando un pirata cinese chiede un quantitativo doppio consegnato magari questo è un episodio in un preciso punto questo viene fatto cioè la stessa compagnia ad esempio riceve una richiesta a un certo punto di 5.000 dollari d'argento dai pirati e questo viene fatto insomma un rapporto con le autorità locali che è sicuramente molto complesso eh sì 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 tra l'altro Aleco descrive pure la guerra un po' tra la polizia di Hong Kong e i pirati di Bias Bay dicendo che era una guerra fatta di spionaggio con so spionaggio di delazioni di corruzioni insomma il meccanismo era talmente complesso e talmente comunque collegato anche proprio alla cultura locale eccetera che Aleco riflette come in teoria sarebbe stato facile andare a stanare i pirati nelle loro fortezze e schiacciarli in teoria gli inglesi non avrebbero potuto fare sperazioni punitive contro i pirati perché andavano a calpestare la sovranità cinese e abbiamo visto che avevano fatto parecchi danni sì in realtà le autorità cinesi sono descritte come completamente impreparate e quindi gli inglesi avevano dovuto intervenire le autorità cinesi non hanno punito i criminali quando potevano ci racconta Aleco e sono arrivati poi al punto di andare dagli inglesi e dire ok adesso smettete di punire i pirati perché più lo fate più loro ci fanno rappresaglie smettete di intervenire esatto pensa che Eugene Chen capo cinese nato in Giamaica e a capo del governo di Angkor diete a mister Eric Teichman della legione inglese il consiglio di lasciare stare i pirati nel senso qua comandano loro questi stanno qui non importa quello che facciamo questi stanno qui ci sono sempre stati ci saranno sempre quindi lasciateli perdere è una cosa con cui bisogna fare i conti e basta quel giorno pensa ci fu proprio l'assalto a Bayas Bay con le giunchie affondate tutte quelle case distrutte di cui abbiamo parlato nello scorso episodio che l'autore che Aleko aveva visto passando per Bayas Bay un ultimo appunto su questa spedizione punitiva inglese antipirata poi fu il fatto che ovunque in Cina questa operazione viene da quel punto in poi utilizzata per fare propaganda antistraniera abbiamo parlato delle rivolte di Nanchino all'inizio di tutta questa di tutta questa questo viaggio nei mari della Cina effettivamente era un episodio usato molto dai gruppi nazionalisti per propaganda diceva vedete gli inglesi arrivano uccidono donne e bambini incendiano i villaggi insomma interessante come parlando della sua inchiesta Lilius viene anche apparentemente ostacolato dalle autorità e si trova a dire a un sergente avete forse paura che io scopra tutto quello che avete fatto contro i pirati o meglio che non avete fatto viene descritto il silenzioso ma importante lavoro dei doganieri cinesi che devono fare da guardia costa uomini dai 30 ai 50 anni che silenziosamente sono di servizio nella parte più tranquilla della costa cinese infestata da ladri pirati e altri banditi e questa è la zona tranquilla tutte persone che ai doganieri taglierebbero volentieri il collo doganieri che poi in realtà si trovano a sostenere importanti conflitti di cui però nessuno sa mai nulla insomma abbiamo parlato dei pirati dei rapporti con le autorità locali un ciclo giro di corruzione enorme società segrete protomafia praticamente e effettivamente cioè tutto torna a un certo punto è semplicemente è semplicemente su una scala talmente grande complessa perché poi ci sono delle autorità anche coloniali cioè ci sono varie situazioni interessate c'è la tratta dell'oppio cioè c'è un è un casino enorme in cui il nostro Aleco Lilius si muoveva a caccia dei pirati cercando di raccontare storie ma effettivamente era un luogo e un tempo in cui le storie non ti arrivavano in faccia era proprio difficile non trovarle perché è veramente complesso interessante e molto affascinante e poi un altro tema politico se vogliamo è quello sollevato dal rapporto col Giappone l'elefante nella stanza come ne aveva occasione se affacciava nei mari tra Taiwan e Hong Kong viene raccontato a un certo punto dell'attacco al bastimento giapponese Delimaru perpetrato da una donna l'autore si chiede se la donna sia proprio lei Loichi Hoisan la regina dei pirati perché si ricorda che infatti lei odiava a morte i giapponesi e se ti ricordi uno delle sue possibili morti è stata proprio combattendo con il Giappone durante la seconda guerra sino in Giappone quindi un po' di pezzi torna questo racconto non è proprio tutto campato in aria questo è vero insomma ci sono delle cose interessanti anche qui e poi a me piace hai fatto un ottimo quadro politico e di intrecci politici anche io ci rimetto un po' di romanticismo citando il lato Bellami come sempre della storia perché queste figure come l'Al Capone che tu hai descritto effettivamente sono perfettamente figure piratesche sempre a metà fra terribile criminale sadico svalvolato e salvatore della povera gente che si oppone ai potenti e quindi c'è l'immagine in questo rubare 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 del Robin Hood che ruba però lo fa per gli altri e viene citato espressamente Robin Hood di Lai Choy San viene detto si può immaginarla come un Robin Hood femminile e cinese di Wong Kyu Al Capone in pratica viene detto da chi lo conosce non è poi tanto cattivo deruba i ricchi ma il denaro lo dà ai poveri però viene detto no Lilius non è che accetta tutto passivamente viene detto si ruba i ricchi si hai mai visto uno che ruba i poveri si ma non è questa la parte strana la parte strana è che poi appunto il denaro lo dà ai poveri egli a Fusan mantiene parecchie famiglie che sono nel bisogno e questa gente lo ama come un dio Wong Topping il pirata vi ricordate della fratellanza segreta così disse parlando dei giusti eroi quando prendiamo un ricco spiega il pirata lo teniamo per il riscatto e il primo beneficio lo ricevono il malato e il povero e sembra anche un po' quel meccanismo di assistenza che c'era sulle navi pirata quando qualcuno magari diventava invalido prendiamo ai ricchi e diamo ai poveri questo dice l'autore era un ammirevole sentimento che aveva un lontano sapore della filosofia di Robin Hood insomma anche i pirati cinesi non risolvono i nostri dilemma assumono questi pirati sono cattivi o buoni ma amplificano ancora di più queste nostre visioni molto complesse poliedriche comunque per concludere un po' tutta questa grande cavalcata in Asia possiamo dire che il racconto del viaggio di Aleko Lilius tra i pirati cinesi in particolare con la Shui San e le relative fotografie viene pubblicato in mantenente sull'American Weekly di New York e nel The Sphere di Londra i giornali locali di Hong Kong Canton e Amoy pubblicano poi articoli illustri in proposito perché effettivamente il libro è un best sell come dicevamo dopo aver portato le sue inchieste alla ribalta il giornalista ebbe anche delle ripercussioni di nota insomma nei misteriosi canali del basso mondo cinese dice Aleko circolava voce che i miei iscritti fossero inquietanti per il popolo piratesco di Macau i pirati avevano intenzioni ostili i pirati di West River e la ganga di Lai Chui San lo volevano morto ora non sappiamo se questo è marketing oppure se è vero però però insomma aggiunge fascino alla questione e che ritratto emerge di questi pirati tagliagole o rapitori affaristi pieni doppio che accettavano bustarelle o magari eroi ribelli Robin Hood di sicuro principi liberi e regine dei pirati sono apparsi anche nel mare d'oriente e questo viaggio nel mare d'oriente è appena cominciato perché continueremo a raccontare grazie ancora ne vedremo alla prossima liberi johnny liberi oh liberi johnny liberi for the wait is long and the winds don't blow and it's time for us to liber grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.